E' giunta il comunicato dell'uomo di fiducia della Schlein che dice sostanzialmente che Azione non può partecipare alla lista del centro-sinistra perché Calenda ha avuto delle parole poco tenere nei confronti del PD e di Conte e soprattutto perché Calenda ha detto che Bardi è una brava persona. Leggetevi questo comunicato che vi fa mettere le mani nei capelli, mi rattrista tremendamente perché vuol dire che c'è proprio un'azione a far male, a far morire, come voglio dire, sapete quando deportavano gli ebrei, no? E quindi dovevano portarli nella camera a gas. Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire. Insieme a me Azione.